FIFA 19 FIFA 19 Questa è l'ultima partita Cioè questo è l'ultima o l'ultimo episodio in cui potrete fare i vostri pronostici Bene, giochiamoci la partita subito con il Torino Attenzione KIN Ragazzi, primo squillo del nostro KIN Un tiro abbastanza forte Vediamo un po' dal calcio d'angolo se riusciamo a fare qualcosa con le lighelli Niente, al solito Oh, attenzione Tonalino E' sempre questo Siriku Che cavolo Attenzione Lelli Kelly Lelli Kelly Goal di Lelli Kelly ragazzi Guardate qui Con la sua acconciatura bionda Riccia Lelli Kelly Sei metri e mezzo di calciatore Che non ne prende una di testa Guardate qui il gol del nostro Lelli Kelly Forever Kelly Guardate qui Sinistro magico In alto a destra 1-0 Brescia Tonalino Sandro Vai Sandrino Attenzione per Donnarumma Barilla Antonino Questa volta quaglie ragazzi Ma dai Ma dai Ma per favore No, no, no ragazzi Aspettate un attimo Voi non l'avete visto Ma Cosa fa? Basta La palla è fuori Era pure nostra La mette lui fuori Guardate Guardate che bravura di Basta No, voleva che battesse il Torino Bravo Attenzione Kin Si gira Orribile Attenzione il Torino Gliel'ho regalata io Mamma mia Ci hanno sfondato Il proprio Ci hanno sfondato Ragazzi Fortissimamente Ci hanno sfondato Guardate qui Bella Bella Veramente bella E intanto Giocando e scherzando Gozze del Torino Bella Oddio Mamma mia Che gollo Donnarumma Non lo so neanche io Come ho segnato Ragazzi Aspettate un attimo Lo faccio rivedere Guardate qui Tonali Scodella in avanti Poi palla per Kin Che passa alla cieca Però Si insinua Donnarumma Potrebbe essere la nostra vittoria Dopo 800 anni Aspettate Aspettate E finisce ragazzi Vittoria del Brescia Quindi Tre punti Dopo 800 anni Che non vincevamo Li abbiamo surclassati Ci vediamo alla prossima partita Brescia Barillà Tonali Bisoli Primo Bisoli Sempre lui Angolo per noi Vediamo chi si insinua Attenzione Barillà Mamma mia Stop Manco all'oratorio Questi stop Antonino Attenzione Come esce Lelli Kelly Il nostro bomber ritrovato Lelli Non so come ho segnato Ragazzi E di Di Non so Rimpalli Ma tonali Tonali Capelli belli Fa la gallina Tonali Grande Guardate qui Con che agilità Lelli Kelly Si insinua Tira alla proprio così Alla De cane E tonali Riesce a De panza Proprio Grande così E solo così Possiamo segnare Di ignoranza Grande tonalino Devo dire che stiamo andando Molto meglio ragazzi Non so Già FIFA Sente che faremo un video Super tagliato E quindi mi vuol far fare Bella figura E non so Stiamo andando benissimo Poi non so Magari ne prenderemo Sette Ma intanto Barilla Velocissimo Vai Antonino Antonino No Vai No Va bene Cavolo Attenzione al Milan No Mamma mia Claudio bravo Si sporca i quantoni Per la prima volta Nella Da quant'è che ha il Brescia Con caparbietà Attenzione Meno male Ragazzi Manca pochissimo Stiamo coronando il sogno Delle due vittorie di fila Non è mai successo Praticamente Con il nostro Brescia Quando fischia Eccolo qui ragazzi Seconda vittoria di fila Del nostro Brescia Inimmaginabile Questo trionfo Contro il Milan Ce l'abbiamo fatta E non abbiamo sofferto Neanche poi Certo Ci hanno fatto Sette tiri Quattro in porta Ma anche noi Ragazzi Ci siamo fatti valere In questa partita Quindi buttiamoci subito Nella prossima Altre due partite Ragazzi Ci sono Come vedete Tantissimi tagli Spero che vi piaccia Commentate Intanto noi siamo Quattordicesimi Partita contro L'Atalanta Ragazzi Ci vediamo in campo Mamma mia È zapata Ragazzi Zapatone Ci mette Il testone Guardate qui Gomez È durata troppo La Insomma La benedizione Del nostro Brescia 1-0 Per L'Atalanta Gol di Zapatone Rigore Rigore Ragazzi Rigore Horta Horta Ci porta La Horta Attenzione Bisoli viene Distrutto Dovrebbe essere Calcio di rigore Infatti è così Chi è il migliore Rigorista Della nostra squadra Donna Rumma Donna Rumma Non ci tradire A sinistra Sinistra alto Dai No No Palonetto Non ci crede Che cavolo Attenzione Zapata E niente Ragazzi Gomez No Ilicice Ragazzi Cipurga Ilicice 2-0 Mi sa che con questa Lanta non possiamo Proprio nulla Anche il Gomez E su Berisha Vai Boadu Pensaci tu Boadu Dai Almeno 2 a 1 Forza Che gol Mamma mia Che gol Angel Gomez Non so se si chiama Andre o Angel Ragazzi Però Angel Mi piace di più Guardate qui Che rovesciata Mamma mia La CR7 Come CR7 Ragazzi Niente ragazzi Finisce così Speriamo di non prendere un altro gol Intanto abbiamo sradicato la palla A Zapata E perdiamo ragazzi Con onore Perché abbiamo fatto un grandissimo gol Ultima partita di questo episodio Vediamo un po' dove ci troviamo in classifica Dopo questa sconfitta E ci buttiamo nella partita Contro il Cagliari Siamo 14esimi ragazzi 14esimi Attenzione Dalbert Al Cagliari Ragazzi Penso che quella sarebbe La sua giusta destinazione L'ultima partita A Brescia Cagliari Abbiamo fatto due vittorie Una sconfitta Vediamo al quanto meno Di pareggiare ragazzi Per incrementare il nostro bottino Per arrivare Quanto meno Alla undicesima posizione Attenzione Lellichelli Donnarumma Niente Attenzione Kin Vai Kin Vai Kin Vai Kin Che schifo Mamma mia Che schifo Ho schiacciato due volte Il tasto del tiro E come voi ben sapete Non funziona più Niente Attenzione Moise 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 Kin Mamma mia Ragazzi Il terribile Moise Guardate qui Come si destrueggia E comunque angolo 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 Vediamo un po' Donnarumma Niente Attenzione Barilla Barilla da lontanissimo Ci proviamo a Proprio a bombardarli Vediamo Kin Niente Vai Lellichelli No Vai Bisoli Scomparso dai radar Vai un cross al centro Per Moise Kin C'è Donnarumma Donnarumma 800 anni Per riprendere e calciare Che cavolo Attenzione Nel Cagliari Vabbè però Claudio Bravo Ragazzi Le fa passare Tutte Proprio Il portiere Più scarso Che abbia mai visto Proprio Era vicinissimo Ma lui proprio Come non so Cade Inciampa Ma 0 a 1 Ragazzi Niente Mi sa Che questa La perdiamo anche Attenzione al Cagliari Oh Mamma mia Ma che gol ci hanno fatto Mamma mia Ragazzi Non ho parole Ma chi è Ionita Neanche veramente Se fosse stato benedetto Dal Dragon Sharon Riuscirebbe a fare Alcosa del genere Nella realtà Mamma mia Ionita Guardate qui Che siluro Tanto Claudio Bravo È nulle Come se non ci fosse Va bene 2 a 0 Cagliari Ragazzi Ci Provinquiamo Alla fine Ci proviamo Con cattiveria Niente Bisoli Ci prova Ma niente di che Calcio d'angolo Per qualcuno No Assolutamente no Niente ragazzi Sta per finire Vediamo se abbiamo L'occasione finale No Niente ragazzi Abbiamo perso 2 vittorie 2 sconfitte E comunque Un buon bilancio Contando che Ragazzi Non sono bravissimo Io con le squadre Non top E quindi ragazzi Se il video vi è piaciuto Una barca di mi piace Mi raccomando ragazzi Seguitelo fino alla fine Perché Alla fine verrà decretato Il vincitore Di chi ha pronosticato Esattamente la nostra posizione Adesso siamo sedicesimi Quindi siamo di nuovo scesi Avete l'ultima possibilità Di pronosticare adesso Quindi scrivete Il numero di punti E la posizione esatta In cui noi ci posizioneremo Alla fine del campionato Chi vincerà Verrà ovviamente Nominato In ben tre video Successivi ovviamente Quindi ragazzi Adesso è veramente tutto Ricordate di iscrivervi al canale E soprattutto Seguite i miei social Instagram e Facebook Proprio su Instagram Vi troverete Zcloud Drettino al basso YouTuber Adesso è veramente tutto Ciao Da Zcloud